ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi anche se sono in disabili sono con il mio pigiama ho fatto una pulizia del viso ho fatto il vapore e ho tamponato tutto con la mia tovaglietta con l'acqua calda perché ho bisogno di fare una pulizia profonda ovviamente io lo faccio tipo una volta massimo due volte a settimana di più quando vedo che ho dei puntini neri proprio attorno al naso la fronte e il mento questo mi capita ovviamente se mi trucco spesso perché anche se facciamo una bella pulizia profonda capita spesso che diciamo si sia ancora sporchi in questa zona nel mento e tutto quindi cosa utilizzo io io sto utilizzando questa geggino qui già l'avete visto in altri video perché io mi trovo benissimo con questo prodotto e vado a mettere il beccuccio l'avevo già pulito perché ho fatto anche quello di instagram mentre ci sono faccio anche l'altra lato diciamo del viso se vedete qui è un po rosso non vi preoccupate perché è una cosa che si toglie subito il rossore che viene perché ovviamente la pelle viene trattata in quel punto io vi volevo avvertire che fino a domenica c'è lo sconto di 100 euro su questo prodotto con il mio codice io ve lo scrivo qui in sovrimpressione e poi nell'infobox e se ne acquistate due c'è anche un ulteriore sconto dell'80 per cento quindi wow pazzesco ottimo infatti in questo è il periodo giusto per fare regali e per non fare le cavolatine che spesso succede comprate delle cose che vengono anche utilizzate questo ad esempio lo utilizzo sia io che i miei figli perché loro hanno la pelle più grassa ovviamente della mia e quindi hanno dei bei brufoloni di quelli e riusciamo riusciamo anche a toglierli comunque io adesso vado a farmi vado a continuare la mia pulizia per quanto riguarda il mio naso perché la parte che è più problematica e non dite perché grosso perché non è vero e anche la fronte bene adesso io continuo la mia rimozione per quanto riguarda i puntini neri mi serve uno specchio perché mi devo avvicinare perché essendo ciecata non riesco a vedere dove devo applicare o dove devo premere di più poi ovviamente mettere un tonico e un abbondante crema idratante perché avendo trattato a determinate parti ho bisogno di mettere una crema idratante troverete tutti i link in riferimento a luxury confidence niente ragazzi per questo video è tutto io proseguo con la mia detersione e noi come vi dico sempre ci vediamo al prossimo video ciao ciao